In un attimo C'è un passato in faccia di dormire Non ce la faccio, devo dormire in un attimo Aiuta pure, capite? Ma certo, non riesce Ragioniamo sul da farsi Allora, dobbiamo aprire una volta Quindi sicura non ci stavano loro prima Sì, aspetta un pochetto ragazzi Ah, dici? Sì, sì, sì C'è un po' scomodo Aria per forza Qua Tocca a ritornare Aria a porta Che palle Vedi un po' se c'è qualche batteria Non è giuro Entra la devono No, perché chiudi le porte? Spero che vado che sia preso Ma facci pure un po' L'uomo che chiudeva le porte Andrei, fai foscere L'uomo che chiudeva le porte È vero Questo è il nome del video L'uomo che chiudeva le porte No, l'uomo che si chiudeva le porte No, l'uomo che si chiudeva le porte Dentro, dentro la porta Perché? Chiudeva la porta Qual è? Quella arma dietro Perché rallenta i nemici Ah, sì, no, senti Appassi Non rallenta anche nel senso Esci, esci, esci Abbassate C'è un uomo Da due Ma si aspetteranno che ritorne, no? No Certo che no Ah, ok Ma guarda, è un gioco Ma un ragazzo di pistola Perché non sei Ma questo secondo me parlava Non ci fa un cazzo Regà, questo è là io in aiuto Perché questo ci fa parecchio C'è male il culo C'ha un'arma a mano O sei suicida magari Senti, pronti a correre Ma no, ma lui non mi vede Cazzina, senti? Ciao Ma che fai Perché devi usare a ti Però No, però regà Per me dovevo andare là E entra dentro Ma non devi andare là Senti, senti Devi attirarla verso Dei aria Armassimo scappa Regà Guarda C'è il stintore Alza, alza Le scappone A pezzo de merda 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 Gira, no, gira, gira Gira, gira Gira C'è nessuno Che volete GG Buffon A pezzo de merda Oh, guarda Ma vedi che faccia Ma vedi, grazie Vai, 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 vai Ma sai Secondo me Vedi che scappi E va contro il vetro Perché non stai zitto Porca troia Non voglio stare zitto Non è in bagno Non è in bagno Dentro una porta Ah, diventa nella porta Fissandolo ovviamente Eh, allora Mi ha arso pure in piedi No, no C'è una spranga C'è un manganello Ma infatti Perché sta cercando Di animare E trovi un altro E vai in un armadietto Eppri Sta cercando Di dire Di animare Con un manganello Oh, batterie 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 Ce n'era una anche sotto C'è un'altra sotto No, era il modem No, non era batteria Ti pare che te ne mettono Due o una sopra e sotto Sì So che so gentili Però Ma regalo Sta cazzo di stanza Non ha senso Vabbè, c'era una batteria BAM Sicuriti Dove mu entrano La portata prima Questa E qua ce ne stava uno Prima Ha sfornato tutto Dove? Infiltrate nell'armadietto No, no Attiva qualcosa Poi ti fa pian colpo Ehi Entra in armadio Entra in armadio Guarda, guarda, guarda Guarda quello che è acceso Guarda, guarda C'è stata una bella scena Perché non vedo niente Perché stai in un armadio a buio Stai in armadio a buio Senti più otto come ti piace un'errore Che c'è 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 un'errore Oh cristo Oh, non mi piace un'errore Non mi piace un'errore Mi piace un'errore Stronzo Siamo scesi? No Sì Ma brava, hai visto però che gentili che mettono i fraccetti? Meno male Vabbè ma perché non c'è Oh, oh, oh Ma sono, sono grosso Senti entra nella porta Seguriti Quali segresti? C'era una porta Seguriti Seguriti Ha detto che adesso ci divertiremo Le lingue e il fegato Sono spogliati Quale spoglienza? Ah, ok Ah, proprio Alla pezzo prezzo Io direi di andare a destra A quello che vuoi? C'è mia luce Allora Mi piace sta cosa, raga E mo' sono cazzi? Mo' si cagano un po' con te la lucidore Ma vedi che è entrato nella porta Devi aprire nella porta Ti serve una chiave Devi entrare nella porta di prima Ma voglio la chiede, scusate Ma io già lo so che me si inculano Che cazzo sta succedendo? È straccato il capoccio Ma perché Ma che figata Adesso ce l'ha la testa Ho preso L'ho presa Adesso andiamo alle docci Alla cosa Alle docci Che cazzo faccio? Che cazzo faccio? Che cazzo? Non ho paura di te Ok Ok Eh cosa si metta pure la corrente? Ma c'aveva il pene di porci In sale finestre Scutate l'avete pagata la corrente? Aveva il pene di porci La pornetta Io tipo Non ho paura di te invece Doveva avere Ss clairc*** Un peso Cazzo Tot suit 12 12 14 Non vedo un cazzo Oh ma punta Non vedete Insomma Tutti Non vedete Ma fatti Ma punta Non sapeva Nel s OFF C'ha pure il tubo per scene Ma infatti Ma date a te no a 9 ha dato comunque il pene di fuori non mi piace sta cosa e sta qua non siamo alle docce oh 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 c'è qualche batteria certo no raga zero batterie non sono importanti sono importanti quando stai buio senza batterie raga è già che è finito andando in pace amen la sentenza strotta bim bum bum minna come ha detto buonguomo di bambents daratara , bambini si e se trovo la porta chiusa oh forse per la cacca rossa ai cacca rosso quando fai la cacca rossa Dovresti imparare la storia Eh sì al primo l'abbiamo fatto vedere Però poi ci siamo rotti le palle Che bello l'ho fatto a pezzi No è un primo video nostro in cui facciamo un tutorial su come usare la cartigienica Ah giusto Ma l'altra parte Ma porca puttana Ma ci hanno chiuso No no aspetta aspetta Su questa prima era chiuso No scusa l'altra parte No 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 Shower 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 Mi dice vai alle docce No c'è scritto shower Eh no non te ne parlo No qua è dove siamo venuti eh Ma noi non siamo bravi in inglese quindi Ragioniamo Oh regolete che parliamo con la porta è chiusa Devi aprirti Oh spegnate le camera Ma l'accendo E non la spegno Apri la porta Ho il transicuriti Inseguriti Cioè ma io sono sempre nato le camera Inseguriti Ehi Ehi E' cortato Guarda le docce Bam 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 Cazzo Da entrare il buco Entrare il buco Il buco Oh le cazzo Non c'è un buco So io che vedo male Oh le cazzo Abbassare Non stai a vedere Oh merda L'ha visto rega No Ok Ah Eeeh Dai Eeeh Scappa Che cazzo sta succedendo Essi dalla porta Oh le cazzo sta succedendo No mi sa che ti apre lui e tu devi uscire andò in prato No Si c'hai ragione Perché da là tanto lui è uscito Se non giochi a giro giro tondo intorno al tavolo Che cazzo Che cazzo Ma te nasconditi dal tavolo e giochi a giro giro tondo con lui Si si mi piace giocare la cazzo Perché è spontaneo Se abbiamo la testa non c'è più il tavolo Ah 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 Vieni qua Vieni qua Bravo 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 C'è la cosa No 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 Non è dietro Non è dietro Non è dietro No No Sassa Soppa Soppa Non è cazzo Non è passare Satta Attiva la telecamera Non è menta Non c'è basta È troppo peso È un vero E' un po' E' un po' Passate Sì, ci bussano perché stavamo a fare casino Stavamo a fare parecchio casino Io direi Sì, sì Allora finiamo qua Bene Ervide è finito Ci hanno bussato Ci hanno bussato perché stavano urlando come delle femminucce Perché sono soltanto le Sono le due in quarto E un quarto ne stavamo facendo un casino della madonna E Loree non vorrei essere pessimista ma mi sa che c'è l'un No, no, continuo Il microfono si è bloccato però No, no, continuo Allora, vi mandiamo in pace Andiamo a dormire E ciao Buon Natale Buon Natale